Cartier Drive de Cartier, l'orologio che unisce eleganza e sportività. Nell'attuale epoca in cui la società attribuisce un alto valore al possesso di un orologio di prestigio, spesso percepito come uno status symbol, il Cartier Drive ha rivoluzionato questa tendenza. Il Cartier Drive ha fatto un connubio tra l'eccezionale savoir-faire della maison francese e un design di cassa caratterizzato da linee eleganti e forme più contemporanee. Questo orologio da uomo è ispirato all'universo dell'automotive, dove le sagome aerodinamiche sono state reinterpretate per dare vita a un orologio che rispecchia l'universo maschile, orientato verso la bellezza dei dettagli meccanici e estetici. Una delle caratteristiche distintive del Cartier Drive è rappresentata dalle decorazioni guilloché del quadrante, che richiamano il design di una calandra automobilistica. Inoltre, il vetro bombato e la corona a forma di bullone conferiscono all'orologio un aspetto straordinariamente affascinante. L'equilibrio perfetto tra finiture lucide e satinate contribuisce a enfatizzare la bellezza del Cartier Drive 2016. Un'altra innovazione significativa riguarda le opzioni disponibili sul mercato, tra cui l'oro rosa e l'acciaio. Questa scelta riflette il perfetto equilibrio tra eleganza e naturalezza, tradizione e contemporaneità. Inoltre, il Cartier Drive offre tre varianti di quadrante guilloché in nero, grigio o bianco, permettendo così ai clienti di personalizzare il proprio orologio. La meccanica di questo straordinario orologio è altamente sofisticata, con tre calibri distinti, tutti realizzati internamente presso la manifattura Cartier. Cartier è uno dei pochi marchi a vantare la certificazione Poisson de Genève, che celebra l'origine, la maestria artigianale e l'affidabilità nel tempo di un orologio. Il posizionamento del Cartier Drive è stato una sfida significativa per il marchio, poiché ha cercato di attirare un pubblico maschile in un mercato tradizionalmente orientato alle donne e al gioiello. Questo posizionamento è stato volutamente mirato a introdurre nuovi clienti maschili al marchio Cartier. Inoltre, la scelta di una forma di cassa simile a quella rotonda ha reso il Cartier Drive un'opzione unica per coloro che cercano un orologio rettangolare di classe. In conclusione, il Cartier Drive rappresenta un esempio di successo nel mondo dell'orologeria di lusso, con un design distintivo e una qualità eccezionale.